Sono mai 15 anni con l'onore di partecipare come relatore e partecipante anche alle varie edizioni di Tiforum e devo dire che l'ho sempre visto in crescita e l'ho sempre visto meglio. In crescita come numero di persone, di partecipanti, sempre molto attenti, con domande sempre puntuali e precise e l'ho visto anche in crescita soprattutto per quanto riguarda la formazione, sempre più formazione, le sale sono sempre piene, i relatori sono numerosi e anche gli argomenti sono sempre molto tecnici e molto precisi. In modo particolare ho notato un avvicinamento al trading automatico, all'automizzazione, ai trading system quindi diciamo che questo è un po' il futuro del trading. Vedo una crisi sul mercato americano che nel prossimo anno 2019 e anche 2020 potrebbe vedere una recessione sui dati macroeconomici principali, mentre invece sono abbastanza ottimista sul mercato europeo e sull'Italia in particolare. Nel brevissimo termine, poi in particolare sull'Italia, guardando un grafico daily proprio per essere molto operativi, credo che il livello 18.000 abbia rappresentato un doppio minimo, un supporto molto importante che fosse da riportarci politica a parte verso ancora i 20.000 con obiettivo 21.500 nei prossimi mesi.